Ciao a tutti, mi chiamo Intipestoni, sono nato a Faido, ho 19 anni, gioco nel Rambri, vado a scuola a Tenero, mi piace andare in giro con i miei amici, divertirmi con loro, seguo il calcio, sono un tifoso del Milan, voglio invitarvi tutti a venire a vedere le nostre partite, ci fareste un grande piacere e un saluto a tutti i dittatori di questo sito. Grazie.